quando la tua bambina guarda un bel cartone animato nemo nemo mi viene un'idea a full timer pesca e adesso cerchiamo qua nemo robot eccolo qui ragazzo il dito sempre in mezzo ovviamente leggiamo un po robot pesce nemo fin sta vita reali movimenti giocattolo e andiamo ad acquistarlo e acquista ed ecco arrivato il pacchetto vediamo quanti pesci riusciamo a prendere nemo no 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 ora vediamo come funziona il pesce in basca mi fa abbastanza la vita in realtà voglio provare dentro l'acquetta cosa conviene a presto Con le pinze, tanta pazienza, abbiamo inserito l'ancoretta e vediamo se il nostro Nemo funziona o no, alla cazza di grossi predatori, ok ci siamo, abbiamo un cane qua, abbiamo un cane bello, abbiamo un cane bello, lasciami lavorare un cane, un cane, un cane, inserito, sollezie un cane, inserito, sollezie il cane, inserito, sollezie no ma va non va ma resta video è bellissimo chissà se riesco a banare qualcosa guardate 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 guard non è proprio felicissima però un po viva si si guarda viene a vedere viene a vedere lo so che hai da fare ma viene a vedere lei mi ha visto il cartone animato nemo ma vabbè un cartone animato per bimbi bello il problema guarda no 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 ma è bellissimo è bellissimo è bellissimo no 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 Guarda, 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 guarda qua c'è 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 Non è che mi fassare di più. 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 Oh. 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 svariate dopo svariati colpi andati a vuoto a pescare senza ancorette durissima nemmo guardatelo bene ragazzi se vi è piaciuto un bel like vi scrivete campanellina per trover per trovare per trovare per vedere per vedere noi trovate di full time pesca ciao ciao da nemo e dal super bass ciao